Eppure Aldo, com'è strano se tu prevedi la chiesa? Perché? Io mi sto accennando la chiesa, mi sono chiuso a confessare, no? Mi aspettavo che chi le ricevete? Dio aveva maria e tre padri nostri Invece si dice, no, 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 una volta che fate peccato dovete fare opera di bene Figliate 50 euro e le date alla prima persona che incontrate E questo è un giro, a me 50 euro Ah, non è fesso, cane mio! No, non deve essere una persona conosciuta Se no uno invece deve perdere la casa e ci ha regalato il figlio e la moglie Deve essere una persona strana Tu prendi 50 euro e ce li ha Ui, ui, qua c'è stata una prostituta, la conosci Ah, signore, io non la so, tu la sai? E che ne sai che è una prostituta? E' vero, che diamo una vita Ah, si, si, una prostituta Non ce l'ha essa, io vieni seppi Eh, eh, 50 euro Eh beh Signore, buonasera Buonasera Signore, qua stanno 50 euro Bello, ma non vai con 50 euro, cambierà 100 euro No, 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 signora, 50 euro Me l'ha detto proprio il prete, vedi, 50 euro E' il tuo prete, ti dice, ah, zecco Io lo prete, ti vengo tutti i giorni E' cliente E' il tuo prete, ti dice, ah, e detto ah E' il tuo rumore .